Wahey Kooch, ben ritrovati dal vostro Androninco 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3 Come avrete sicuramente letto dal titolo oggi c'è la missione di Termianinator Per farla, per trovare questa missione bisogna andare proprio praticamente in questo vicolo qui Vicino al circo o vicino al ristorante di sushi se preferite ed entrare praticamente qui E guarda un po', c'è uno Yo-Kai grigio, è piuttosto strano Eh, ma che, riuscite a vedermi, Nya? Certo, sei uno Yo-Kai felino grigio, no? Nya, ti vediamo chiaramente, Nya Bene, allora Salve, mio aestro Mi aestro Per il termine che i Yo-Kai felini siamo per riferirci ai più esperti, Nya Il mio aestro Suona così strano Nyansei, più o meno Se Nya è maestro Nyansei, visto che usano sempre Nyan Sono Grey, Nyan, e ho ogni ora conoscervi Nyan pensavo di incontrare un mio aestro subito dopo essere diventato uno Yo-Kai Sei appena diventato uno Yo-Kai? Dopo che mio padrone mi ha abbandonato, mi sei spezzato il cuore Oh cielo, ma è terribile Che strano è questo destino che ci ha fatti conoscere Se ti serve una mano, fammi sapere Grazie, mio aestro Nya, puoi contare su di me, Nya? Posso chiederle una cosa? Ehm, certo, Nya Vede, io sogno solo un mioiosissimo in colore Nyan Mi chiedevo se potesse aiutarmi, Nya Vare a diventare più grande e più forte, Nya Uh, farò di te un Nyan I riferimenti a Mulan sono casuali In quel piccolo buio si aggirano Yo-Kai gatto di colore grigio Vuol diventare più forte e vigoroso E allora lo faremo diventare il migliore Nya, chi è maestro sarei se non potessi nemmeno aiutarti? Ti farà diventare un Nyan-tastico Yo-Kai felino Grazie per avermi aiutato, maestro Jibanyan Eh, Jibanyan, non hai tutta questa esperienza per renderlo Nyan-tastico? Sei un Yo-Kai di rango D, il Kei non ti dà nessuna qualifica Allora dovrebbe diventare Gran-kyo-Gat Tu spera ragione, come fai a portarlo a un rango superiore al D? Nya, ma se non sarò io, chi potrà aiutarlo? Me ne occupo io, Nya Oh, Robonyan F, se non sbaglio Robonyan è F Io sono un Yo-Kai di rango A, specializzato nell'allenare i deboli Nya Ecco il tipo che fa il caso nostro, possiamo affidarci a lui Nya, mi serve il suo aiuto Miestro Robonyan, mi puoi insegnare come diventare più forte? Attivazione modalità farò di te un Nyan Farò di te un Nyan, cosa vorrebbe dire? Di tutti i metodi per potenziare uno Yo-Kai Farò di te un Nyan è il migliore Fase 1 Utilizzo di lenti oscurate, altrimenti dette occhiali da sole Occhiali da sole? Nya, gli occhiali da sole mi faranno sembrare tosto, Nya Credo di sì Dobbiamo condurre la ricerca sull'effetto di occhiali da sole Dobbiamo raccogliere e analizzare gli uomani di Le Sud Nya, l'effetto occhiali da sole Porta altri metodi sugli occhiali da sole degli uomani e le analizzerò Per favore aiutatemi, voglio diventare più forte, Nya Sembra proprio che non abbiamo scelta Andiamo alle Sud Dobbiamo tenere gli occhi aperti sugli occhiali da sole da uomo Davvero? Ma di notte va bene allora Oh sì, c'è anche la mission... c'è anche il navigatore Bene, meno male C'è ancora tempo prima che diventi notte fonda Quindi penso che va bene anche... la sera E vabbè, ma dove si trova? Alla centrale di polizia Ah, il poliziotto, giusto Eccolo qua E allora ragazzino, visto che è sole? Oh, sta indossando gli occhiali da sole Allora pensi di raccogliere informazioni sui occhiali da sole? Beh, di notte non è che ci siano proprio... c'è tanto sole, eh Affermativo Alto livello, occhiali da sole rilevato, gna Analisi degli occhiali da sole in corso, gna Analisi completata, gna È stato veloce Questi dati possono essere utilizzati per gli occhiali da maccio perfetti Gna, gna, fantastico Avvio, fase 2 Quindi non abbiamo ancora finito, gna Negativo Non è così semplice fare di qualcuno, gna Fase 2 di farò di te, gna Questa fase è detta un vero, gna Si veste di nero, gna Dobbiamo raccogliere dati sugli umani che si vestono di nero, gna Perciò dobbiamo trovare persone vestite di nero Non dovrebbe essere difficile Vestiti neri normali, ricalcolo Dovete trovare il tipo esatto di vestiti neri che sto cercando, gna Beh, sono confuso Come si gente, è così seccante, gna Sarà meglio di cercare persone vestite di nero, no? Immagino di sì Oh, però c'è la freccia, meglio così Penso che le fasi siano tre, insomma Più o meno Sono sempre quelle le fasi in generale Anche quando vai a cercare i fei insiletto, più o meno Ah, abbiamo andato ad Anacardia? Cosa c'è ad Anacardia? Il prete? Oh, due posti Tre posti? Oh, lui Si, in effetti il Terminator porta una giacca di pelle Salve, siete in tempo per ascoltare il mio ultimo singolo Ehi, amici di latta, che ne dici? Tipo a tu stessimo Rilevato Missione compiuta Ah, ok Più, ce l'abbiamo fatta Ancora non capisco come tutto questo Basta fare di cregne in un vero, gna Scansione giacca nera di pelle in corso Ancora quella bistecca là Scansione completata, gna Ora passiamo alla fase 3 di farò di te un gna Ancora, gna La motocicletta sarà come galoppare in una missione apica Andiamo Andrea Va bene Ma dove andiamo? Dove le motociclette? Arriva Nord, se non sbaglio, ci sono delle motociclette? Mi sembra di averne viste alcune là Oltre a quelli che vanno in giro con la motocicletta, sia chiaro Praticamente vuole un Harley, Davison Sicuramente una Davison vuole Perché sennò Sennò non è contento il signorino Guarda quello come sfreccia in sella la sua moto Yo, amico Che è di questo tizio? Non è piuttosto che il mio teo mai visto? Se non l'hai detto lui? Chi allora? Beh, direi di sì, no? Yeah, niente, sbatte starmene da solo sulla strada con la mia motorbike Perfetto Questa motocicletta è ciò che ci vuole per far di te un gnan Abbiamo proprio occhio per le motociclette? Analisi motocicletta in corso, gnan Analisi completata, gnan Raccolta dati far di te un gnan completata, gnan Andrea gnan, gnan Che gnoia questa procedura, mi è passata la voglia di essere un gnan Iniziare il protocollo, farà di te un gnan Futurizzazione in corso Sembra uscito da un film di fantascienza Affascinante Errore, errore, sovraccarico dati potenziamento Attendere, gnan Attendere quanto? Stima di completamento in corso Fino a domani sera Ma che gnan, perché ci vuole così tanto? Tornate al vicolo dove avete trovato Grainian domani sera Oh, intendi il vicolo dell'hip hop? È lì che ci siamo incontrati Affermativo Tornirò domani Basta andare a dormire Credo Spero, perché sennò ragazzi è assurda questa missione Sì, ok, basta far dormire i personaggi e si può andare Eccolo qua, vediamo un po' se ha fatto tutto quanto quello che doveva fare Ecco Robonion Ti stavo aspettando Andrea Ehi Robonion, dov'è Grainian? Sei riuscito a fare di lui un gnan? Affermativo, programma farà di te un gnan completato Sono efficientissimo, gnan Cos'è questa musica drammatica? Cos'è questa musica drammatica? Ehi, eravate preoccupati per me? Come ho detto, tornierò Ma mi sembra di aver già visto questo look In effetti ho anche di familiare Silenzio Questo è un design unico, gnan Il gnan finale è stato creato grazie ai dati raccolti Dov'è il mio drink? Sono stato in sede della mia motocicletta tutto il giorno Detemi una soda, voglio una soda Ho bisogno di una soda Non credo che ti risetterà molto Bene, missione compiuta Addio, gna Tornierò Eh, come hai detto? C'è qualcosa di molto strano in questa frase Tornierò Quale? Tornierò Secondo me l'hai rubato a qualcuno Non ci sto capendo nulla Ehi, Terminianator è tornato Terminianator Ma che nome è? Io pensavo Terminianator Una cosa del genere Terminianator Terminianator Gnan ha avuto l'occasione di presentarmi Piacere di coniescervi Grazie per aver fatto di me un gnan Gnan sta la vista Grazie Terminianator Ho ancora mi alta sete Voglio un'altra soda Veloci Te l'avevo detto che la soda Non ti avrebbe distretato Ah bene Ma quindi Terminianator Viene Incredibile E spera grande però Buono Ma quindi? Sono un gnan final Sono Terminianator Faccio quello che voglio Ho un gnan completamente diverso ora Già Ti faccio vedere che avverò gnan Fatti sotto Ah possiamo combatterci quindi per reclutarlo Questo è lo spirito giusto Gnan Facciamolo Gnan sta la vista Baby Senti qua che musica Di Robognano se non sbaglio Quando combattiamo contro No aspetta Contro 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 Felimonia e Kankan Forse su Blasters Ovviamente il deflutto proibito Voglio prenderlo come il primo tentativo Ragazzi Non posso farlo ogni giorno Cosa che invece sto facendo Con Che dovrò fare Con Appunto Ribello Però una volta reclutato Mi dà il DNA Dinosauro Quindi DNA antico Non so come si chiama in italiano Quindi Bisogna farla per forza quella È tostino eh Non è male È tostino bello questo Mi piace Ma È debole comunque Se ho già visto le statistiche È debole Vorrei dire Tornerò Ma preferisco Ogni non andarmene proprio E fare amicizia Ma certo Terminanator Tornerò Vediamo un po' soprannomi Ovviamente Tornerò È la frase Che dice Schwarzenegger Quando Appunto interpreta Terminator Nel primo Terminator In italiano dice Aspetto fuori Ma in inglese Che è appunto Originale dice I'll be back Tornerò Nienzi Ma che è Nienzi Non è È Conor Ok ma Nienzi No non so Nienzi Perché Nienzi Ma Niauborg Rotella Ma che cos'è Rotella Ma dai Ma per favore Vai via Rotella Per aver sconfitto Nian Final Deve essere davvero In gamba Io sono Nian Final E mi ha conquistato Nia Sarei il mio Grande amici Nia Sta alla vista Quindi possiamo Comunque sia Ok quindi Possiamo combatterci Una volta al giorno Bene Kug Questo termina La missione Di Terminianator Che nome Assurdo Giornate divertenti Da Giocopolis No Non ci vado Bene Kug Questo video termina Qui E io come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito E vi ricordo ovviamente Che in descrizione Trovate il link Per Instagram Se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye